Ha anticipato l'appuntamento presentandosi il 26 maggio all'Open Day. Pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca, una 42enne della Piana di Lucca è stata colpita da ictus ischemico. La famiglia ha chiesto una copia della cartella clinica per presentare un esposto ai carabinieri. Ancora tutto da chiarire se ci sia una correlazione fra il tanto dibattuto vaccino e le condizioni della donna, ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di neuro-rianimazione del Cisanello di Pisa, dopo essere stata sottoposta a due interventi chirurgici. I familiari hanno raccontato che la 42enne, in vista delle ferie, era contenta di aver potuto anticipare la vaccinazione rinunciando a Pfizer per AstraZeneca. Non avendo mai avuto reazione avversa a nessun vaccino e non soffrendo di nessuna malattia, era molto convinta della sua scelta. Dopo l'iniezione di AstraZeneca ha accusato solo un po' di stanchezza, fatica e dolore alle ossa, niente febbre. Tutto normale fino al 4 di giugno, quando dopo aver fatto le scale, è crollata per terra. Un malore improvviso. Attualmente in prognosi riservata, la donna sarà sottoposta a una cura farmacologica per combattere i danni potenzialmente riconducibili al vaccino, una prima trombosi su una vena, seguita da ulteriori complicazioni e una conseguente embolia di piastrine nella notte successiva. La famiglia, a livello legale, non può fare molto poiché Irene, come chiunque si sottopone al vaccino, aveva firmato il consenso alla somministrazione di AstraZeneca, prendendosi così ogni responsabilità sulle possibili conseguenze.